E la luna bussò su due occhiali da sole Un concerto evento per dire basta alla violenza sulle donne Dall'Arena di Verona, le stelle della musica italiana al femminile per celebrare gli straordinari 40 anni di carriera di Loredana Vertè Amiche in Arena, domenica 26 marzo in prima serata, Canale 5 Amiche in Arena, domenica 26 marzo in prima serata, Canale 5